Quanto è stato importante l'Italy per te? L'Italy per me è tutto è tutto perchè mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire tante cose mi ha dato tre perle perciò io dovrebbe rendere quasi tutta l'Italy perché l'Italy per me è il mio braccio sinistro Lui va a farla, non ti prende? Da solo no no però sto riuscendo a portare anche la strada lo trovo al momento giusto Quanto è forte Cristian? Cristian si deve solamente divertire e basta, non deve stare a nient'anni ha 14 anni anche lui ha una passione ha un suo sogno fortunatamente ha un papà che già sa quello che è passato lui perciò lo condizionerò nella strada giusta io sto lì a dire però quello che vuoi fare sarà l'importante che lo fa con la testa tua e lo fa con la passione che hai sempre voluto fare poi se dovessi diventare un giocatore è meglio sennò prenderà la strada